Ragazzi, buongiorno. Sono il professor Capuzzo e sarò il responsabile per il modulo di pallavolo del vostro esame di sport di squadra. Inutile dirvi che non mi aspettavo un inizio accademico così. Avrei preferito molto salutarvi di persona invece che da remoto, però d'altronde la situazione che ormai ci circonda da diversi mesi la conosciamo bene e non possiamo fare altro che interpretarla al meglio con le possibilità che ci vengono concesse. Di certo sia per me che per voi non sarà facile gestire un corso pratico da remoto, ma al momento questo è quello che ci viene concesso, quindi cerchiamo di fruirne al meglio delle possibilità che abbiamo e da parte mia ci sarà la massima disponibilità a cercare di trasferire il più possibili competenze e informazioni attraverso i mezzi che in questo momento sono gli unici che possiamo utilizzare. Colgo l'occasione anche per presentarmi un po' perché io non sono esattamente un professore, sono un tecnico, alleno nella vita, faccio il preparatore atletico, attualmente sono in carica come preparatore atletico del custorino di serie A2 femminile di pallavolo, ho rivestito nella mia carriera, posso dire, quasi tutti i ruoli degli staff tecnici a medio-alto livello, sia in Italia facendo la serie A2 e la serie A1, sia anche in Europa ho avuto l'opportunità, la fortuna di fare una stagione in Finlandia e una stagione in Polonia. Sono fortunosamente coadiuvato da un assistente che è stata anche mia atleta ed è una persona di altissimo valore sotto il profilo tecnico e sotto il profilo delle esperienze, Daniela Gobbo e lascio qualche istante a lei la telecamera per potersi presentare direttamente a voi. Buongiorno ragazzi, sono Daniela Gobbo, assistente del professor Capuzzo, quest'anno sarò a vostra disposizione per dubbi, domande e richieste. Nella mia carriera ho giocato pallavolo qualche annetto, fino agli ultimi tre anni li ho fatti al custorino in serie A, ma sono qui ormai da sette anni e da quattro anni ormai gestisco il settore giovanile della pallavolo del custorino. Quindi insomma in questi quattro anni abbiamo costruito una serie di progetti, una serie di esperienze, spero di potervi essere utile per quanto riguarda tutte quelle che sono i dubbi relativi al gioco della pallavolo, eventualmente fondamentali, piuttosto che se qualcuno fosse interessato ad approfondire anche la parte organizzativa e gestionale di comunque un gruppo di persone e di atleti di qualsiasi età, quindi dal mini volley fino all'organizzazione di corsi amatoriali e universitari, non c'è nessun problema, io sono a disposizione e vi auguro tutti quanti un buon inizio di anno accademico. La professoressa Gobbo, oltre ad avere un passato pluriennale in categorie nazionali nella pallavolo italiana, ha collezionato anche più di 90 presenze da capitana in serie A col custorino. Attualmente come dirigente gestisce circa 150 atleti agoniste più 200 atleti amatori, ha sotto di lei la responsabilità di 20 allenatori, di cui la metà di essi sono provenienti dalle scienze motori sportive. Coordina diverse squadre su otto impianti in Torino e Cintura. Parliamo di un profilo di livello estremamente importante per quanto riguarda il nostro campo, che può essere per voi un'opportunità per avere una finestra sullo spaccato lavorativo di quello che è il nostro campo. Illustrare chi siamo non è uno stentare quello che è il nostro passato, ma deve essere soltanto l'idea di quello che si può fare. Si può vivere degnamente facendo quello che ci piace, allenando, vivendo di sport e di fatto vivendo della nostra passione, perché nello sport conta unicamente quello che fai da oggi, quello che sono in grado di fare io oggi per voi, quindi trasferirvi delle informazioni, passarvi delle competenze, se è possibile farvi fare delle esperienze nel campo al più alto livello possibile. Non conta quello che è stato fatto, conta quello che resta da fare. Questa è una cosa fondamentale se vogliamo essere dei professionisti seri all'interno delle scienze motori sportive. Noi siamo uomini di campo. Io faccio il professore da tre anni, un anno d'assistente, due anni da docente in cattedra ordinario, però resto sul campo, resto un allenatore e come tale contano i risultati che sono in grado di portare e di fare in particolare ottenere a quelle che sono le persone che vengono in contatto con me, in questo caso voi studenti. Di certo non è un segreto che il nostro mercato è problematico. Il covid non ha fatto nient'altro che acuire quelle che sono delle problematiche ataviche. La situazione non è peggiorata drasticamente, la situazione era già difficoltosa in un mercato comunque spigoloso dove la concorrenza è alta e in certi casi anche sleale alcuni improvvisati che ci contendono delle quote del mercato. Avere competenze ed esperienze di alto livello sono necessarie per poter interpretare e vivere al meglio questo panorama che di certo non è facile da affrontare. La pallavolo comunque offre delle opportunità e la seconda federazione in Italia per numero di tesserati. Quindi sicuramente un movimento almeno numericamente molto molto ampio. Ha una scalabilità abbastanza rapida, cioè è più facile raggiungere l'alto livello. Se la paragoniamo ad altri sport di squadra, ad esempio il calcio, il basket, è molto più difficile poter ambire ed entrare in uno staff di categoria nazionale. Nella pallavolo è molto più facile ed è molto più immediato perché il mercato è più grande e perché soprattutto è un mercato più aperto, più fruibile e assolutamente più permeabile alle persone che hanno delle competenze in merito. Soltanto in Piemonte abbiamo nove società che hanno una squadra in Serie A. Quindi sicuramente il panorama è positivo. Abbiamo delle opportunità da poter fruire o perlomeno delle opportunità da dover valiare. Non possiamo ignorarle. Inoltre la scuola italiana sotto il profilo dei tecnici è estremamente valida e riconosciuta in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di toccare con mano questa cosa, in quanto quando sono andato all'estero a lavorare sono stato chiamato da tecnici che sono stati ingaggiati per portare in altri paesi d'Europa le loro competenze. Io ho avuto la fortuna di poterli seguire come collaboratore. Si aprono degli scenari che possono sembrare impensabili in questo momento, ma vi garantisco che sono possibili. Io ne sono la prova vivente e ho soltanto fatto il mio mestiere, cercando di interpretarlo al meglio, cercando di farlo con passione, cercando di portarlo avanti con serietà e competenza. Non sottovalutate il fatto che in caso voi superiate l'esame complessivo di sport di squadra con 27 o più di 27 potete richiedere un tesserino di allievo allenatore federale di pallavolo. È comunque un titolo spendibile sul mercato e comunque una competenza riconosciuta oggettivamente dal mercato che ha un valore, che è una sua spendibilità, che può proporvi delle situazioni di tipo lavorativo. Vi può dare l'opportunità di iniziare a fare delle esperienze di campo che sono reali e necessarie. Le competenze sono importanti, sono i pilastri della vostra conoscenza, ma poi c'è bisogno di sporcarsi le mani, c'è bisogno di andare in campo, c'è bisogno di provare quello che si è studiato, c'è bisogno di applicare e capire dove sono le criticità quando tratti con un atleta, quando tratti con delle persone, quando tratti con dei ragazzini, quando tratti con dei genitori. Questo è un sistema che ci deve rendere più solidi, più robusti come professionisti e prepararci a fare quello che vogliamo fare, i professionisti nelle scienze motorie. Parlando del corso che stiamo iniziando, la mia proposta è quella di avere una trasversalità più ampia possibile. La mia idea è quella di darvi delle competenze che siano spendibili nelle vostre aree di riferimento e non soltanto nell'area volley. Utilizzeremo il mezzo pallavolo per sviluppare le metodologie che poi dovrete essere bravi voi a captare, fruire ed applicare con le dovute modifiche a quello che è il vostro campo di riferimento. Però l'obiettivo non è quello di farvi diventare dei giocatori, ma di farvi capire che cosa ci sta dietro. Quali sono dei parametri di riferimento per poter gestire al meglio un allenamento, per poter gestire una progressione didattica, per capire dove potrebbero essere delle criticità, delle varie fasi evolutive dei settori giovanili, della specializzazione motoria. Insomma, un panorama completo di questo sport con le sue caratteristiche che però deve aprirvi la mente e poter far sì che voi facciate la stessa operazione su quelle che sono le vostre attività sportive in carico delle vostre squadre, dei vostri gruppi che gestite e che gestirete. Parlando della struttura del corso, vi illustro rapidamente come siamo strutturati attraverso di me e attraverso i colleghi che fanno parte di questo pacchetto sport di squadra. Per quanto riguarda la parte pratica io sono il referente del modulo pallavolo e poi c'è la professoressa Maria Caire per quanto riguarda la pratica della pallacanestro. Avremo poi delle ore di teoria di giochi sportivi che saranno condotti dal professor Camolese e dal professor Delicio. Questo pacchetto complessivo composto da 50 ore, 40 condotti dalla professoressa Caire più 10 dal professor Camolese per quanto riguarda il modulo di basket e 50 ore del modulo pallavolo composte da 40 sostenute dal sottoscritto più 10 dal professor Delicio faranno il complessivo del materiale di studio per il vostro esame finale. L'esame da cui verrete valutati alla fine del percorso, alla fine di quest'anno accademico. Noi ci siamo già presentati come responsabile docente del corso e come mia assistente, come vostra cultrice della materia e qui potete trovare immediatamente i nostri contatti nel caso abbiate bisogno di scriverci via mail. Parlando di obiettivi del corso, il nostro obiettivo è quello di padroneggiare la didattica e le tecniche di base della pallavolo, ma soprattutto essere in grado di applicare trasversalmente queste competenze ad altri sport. Se entriamo nel dettaglio su quelle che sono le 40 ore di pallavolo, troverete il materiale su base annuale, quindi durante il corso di tutto l'anno accademico, sulla piattaforma Moodle. Qui troverete il materiale didattico e troverete le slide che cammin facendo produrremmo per quello che è il nostro di fatto percorso formativo. Di certo dovessimo continuare a fare lezioni da remoto, voglio programmare delle sessioni live che possano essere di domanda e risposta, che possano fugare alcuni dei vostri dubbi, che magari possono insorgere durante la fruizione del corso stesso. E parlando invece dell'esame finale avremo 30 domande complessive riguardanti i vari ambiti di cui vi ho già illustrato precedentemente, con domande di pallavolo, di basket e di sport di squadra. Avremo diverse tematiche da dover affrontare all'interno del nostro percorso. Il percorso è già stato pianificato e speriamo di poterlo applicare il primo possibile sul campo fisicamente, ma di certo continueremo a farlo passare anche tramite remoto in maniera da poter permettere a tutti di fruirne e di capirne quelle che possono essere l'essenza. In questa slide potete vedere alcune delle tematiche che piano piano andremo a sviscerare durante tutto quest'anno accademico. nel caso dovessimo persistere in questa modalità da remoto cercherò di fruire tramite l'aiuto di Daniela, tramite l'aiuto del settore giovanile del Custorino, tramite la prima squadra che attualmente seguo, delle immagini per farvi capire meglio quelle che sono le esigenze di tipo tecnico e il lavoro che andiamo a sviluppare in realtà sul campo per mostrarvi fisicamente che cosa vogliamo e cosa dovremmo fare. E in questa slide riportiamo quello che ci siamo già detti in precedenza, di quella che è l'opportunità di lavoro. Qui riportiamo nuovamente le opportunità che abbiamo già citato in precedenza, aggiungendo ancora una voce che riguarda l'opportunità di poter fare dei tirocini attraverso la pallavolo Custorino. Questo sicuramente potrebbe essere un canale preferenziale in quanto la referente e la responsabile è la vostra cultrice della materia. Alcune note tecniche per poter fruire al meglio del materiale. Vi ricordo di scrivervi alla pagina dell'insegnamento. Questo perché lì verranno caricate le vostre email e io, nell'eventualità di potervi mandare delle comunicazioni direttamente tramite mail, tramite mail ordinaria, ho bisogno che voi siate iscritti. Vi ricordo inoltre che tutto il materiale sarà da me messo a disposizione sia in formato video, sia in formato slide, quindi presentazione PDF, utilizzeremo diversi canali che piano piano vi espliteremo del percorso che andremo ad affrontare. Eventualmente invito i referenti dei corsi a mandarci una mail per poter avere un contatto diretto sui vari corsi dall'1 al 6 del canale A e del canale B per poter avere magari l'opportunità di interpellarci direttamente in maniera più semplice, più ogevole e più facile su alcune delle esigenze che voi o io posso avere nei vostri confronti di comunicarvi in maniera più rapida. Sto organizzando già il materiale per il primo contenuto tecnico effettivo di questo corso che spero di poter mettere fuori già di questa settimana in maniera che capiate immediatamente quale è il mio modo di interpretare lo sport, il mio modo di allenare e di iniziare immediatamente a far crescere le vostre compotenze sotto il profilo tecnico per poterle fruire il prima possibile direttamente sul campo. Quello è l'obiettivo fondamentale, darvi l'opportunità di provare sul campo al più presto delle competenze e poter immediatamente accrescere il vostro livello tecnico. Vi invito a fare delle domande tramite email in questo momento direttamente alla mia casella di posta elettronica o quella della professoressa Gobbo e spero al più presto di poter organizzare una sessione live o addirittura una sessione frontale dove poterci conoscere di persona e dove poter magari interagire direttamente senza dover passare attraverso uno schermo. Vi auguro un buon anno accademico, spero che possa essere il più fruttuoso possibile sotto il profilo delle esperienze, sotto il profilo delle competenze apprese e se riuscirò almeno in parte ad aiutarvi a crescere sotto il profilo professionale non sarò altro che felice. Massima disponibilità, massima trasparenza, massima tranquillità nel confronto quindi non fatevi problemi a fare delle domande se le avete, scriveteci e iniziamo al meglio fin da subito col piede giusto questo percorso che ci accompagnerà per tutto l'anno. Al più presto metterò fuori la lezione tecnica del primo modulo. Intanto vi saluto e vi ringrazio. Buona serata e buon anno accademico.